Ben tornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Dal satellite notiamo che un vasto campo di alta pressione va dirigendosi verso il Mediterraneo, l'Italia e tutta l'Europa occidentale. Ciò nei prossimi giorni favorirà condizioni di bel tempo ovunque e temperature gradevoli nella media del periodo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 29 ottobre. La giornata ci riserverà condizioni di bel tempo su tutti i settori. Qualche nube in più interesserà le zone interne di Puglia e Basilicata, ma senza rischio di precipitazioni. Cieli stellati durante le ore serali. Temperature massime e stazionarie, in lieve diminuzione invece le minime. Venti di grecale da moderati a forti lungo le coste adriatiche, in rotazione dalla sera da maestrale, più calmi sui restanti settori. I mari, l'Adriatico e Canale d'Otron, Tomossi, lo Ionio invece risulterà poco mosso. Ed ecco ora la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli, che ci regala questa meravigliosa foto che un po' ci ricorda l'estate. E' stata scattata tra le insenature rocciose della costa salentina, nei pressi di Rocavecchia, Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.